La storia delle famiglie notabili e dell'imprenditoria a Taranto, uno sguardo ad un passato che ha formato il capoluogo ionico per conoscere chi ha contribuito alla crescita della città. E' questo il quadro in cui si inserisce il convegno che si è tenuto questa mattina presso la caserma Rossarol nel Borgo Antico, dove è stato inoltre presentato il terzo volume di Pagine di città di Iosè Minervini. Il quadro del convegno è quello della valorizzazione della storia tarantina, riflettere sull'identità di Taranto nel momento decisivo della sua storia. Taranto agli inizi del secolo ha avuto un rapidissimo sviluppo, si è scoperta come una città strategica e alcune scelte del governo di politica militare hanno premiato Taranto. Il successo del primo libro come anche del secondo, speriamo del terzo, dimostra proprio questo, il successo della famiglia e che è importante, è la spina dorsale di una civiltà. Quindi la città diciamo che è bella ma è anche tanto buona e l'anima buona di questa città si manifesta proprio nell'attaccamento alla religio della famiglia e delle sue tradizioni.